Bruxelles, 29 maggio 1985, Stadio Eisel. È il giorno della finale della Coppa dei Campioni. A contendersi il trofeo il Liverpool e la Juventus. Il calcio d'inizio è per le 20.15, ma la partita non comincia in orario. Un'ora e mezzo prima del via, la pressione dei tifosi inglesi sul settore Z dello stadio provoca il crollo delle recinzioni di un muro e i supporters i juventini che sono lì finiscono calpestati o schiacciati. Muoiono 39 persone, 32 italiane, 3 venete. Amedeo Spolaore, 54 anni, Mario Ronchi, 42, entrambi di Bassano del Grappa e Gianfranco Sarto, 46 anni, di Porto Viro, Rovigo. Ma quella sera all'Eisel ci sono altri veneti, il veneziano Luciano Favero, il veronese Beniamino Vignola e il vicentino Massimo Briaschi tutti in campo con la maglia bianconera. Si è resi conto proprio di persona, dal vivo di quello che stava succedendo, insomma, però senza sapere la realtà delle cose. Dopo un'ora e mezzo la partita comincia, è necessario andare avanti. Se per caso non si fosse giocata quella partita saremmo qua a ricordare mille morti. Alla fine vince la Juventus grazie a un rigore segnato da Michel Platini e non mancano le polemiche per il festeggiamento a fine gara. 35 anni dopo la ferita è ancora aperta, anche nell'animo di chi quella partita l'ha giocata. Sicuramente dentro è rimasto un magone, no? Per non aver potuto magari fare niente o poco in quel momento per salvare una situazione che si è rivelata poi pesantissima.